Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Stefano De Martino e Belen Rodriguez tornano nuovamente sotto i riflettori a causa della loro crisi coniugale. Le recenti settimane hanno visto un crescendo di speculazioni sulla fine del loro matrimonio, ipotizzando persino che entrambi avessero già trovato nuove compagnie. In particolare, sono emerse numerose foto di Belen in compagnia dell'imprenditore Elio Lorenzoni, presunto nuovo interesse amoroso della showgirl argentina. Allo stesso tempo, si sono diffuse voci riguardo a Stefano De Martino e una possibile frequentazione con la modella Beatrice Vendramin. Recentemente, il magazine Key ha pubblicato delle immagini che ritraevano Stefano su uno yacht con una giovane donna, che molti identificano come Beatrice Vendramin. Questo ha alimentato ulteriori pettegolezzi sulla loro relazione, anche se entrambi non hanno né confermato né smentito la situazione, lasciando spazio a congetture nel mondo dei gossip. Ora, è intervenuta la sorella di Stefano, Adelaide De Martino, per fare chiarezza sulla questione. Adelaide ha svelato che Stefano De Martino è attualmente single, quindi sembra che non ci sia nessuna storia d'amore tra lui e Beatrice Vendramin, ma piuttosto si è trattato di mera speculazione. Questa informazione proviene da un like di Adelaide su un post di Instagram del settimanale Key, che presentava un servizio fotografico su Stefano. Nella didascalia si accennava al fatto che al momento Stefano è single e sta godendosi del tempo con amici su uno yacht, senza una nuova fiamma in vista. Pare che tra Stefano e la modella Beatrice Vendramin vi sia solo un rapporto di amicizia. Questa tesi è supportata dal fatto che entrambi non erano soli durante il loro soggiorno in barca, ma circondati da altri amici. Questo scenario evoca delle similitudini con la spiegazione data in passato per le foto di Belen con Elio Lorenzoni. Questo solleva la legittima domanda. Questa volta si tratta della verità o è un tentativo di nascondere una nuova relazione? Tuttavia, questa volta sembrerebbe diverso, poiché è emersa una conferma da parte di un familiare stretto di Stefano De Martino. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.